E' un ex giornalista del Corriere della Sera, unico inviato nel periodo dei massacri in Ruanda, unico inviato italiano. E' unico inviato nel periodo dei massacri in Ruanda. E' unico inviato nel periodo dei massacri in Ruanda. E' unico inviato nel periodo dei massacri in Ruanda, unico inviato nel periodo dei massacri in Ruanda. E' unico inviato nel periodo dei massacri in Ruanda. E' unico inviato nel periodo dei massacri in Ruanda. E' unico inviato nel periodo dei massacri in Ruanda. Può essere esportato il polline da tutte le parti, tramite api, insetti, vento. E questo non è stato fatto. La distruzione questa non è successa. E questo è il dispiaciuto. Anche se poi nell'ultima settimana ci è venuto a sapere che ci sono stati gli atti vandalici che hanno rovinato questo prodotto. Ma più che atti vandalici, secondo me, secondo noi, sono istigazioni all'atto. Perché effettivamente questa cottura doveva essere stata distrutta. E questo non è venuto. E questo è un forte dispiacere. La cottura seminata doveva essere stata distrutta. E effettivamente portano questo seme a 3, 4, 5 km di distanza. E infettano tutte le altre coltivazioni vinitrofe. Addirittura distrugge anche le piante infestanti. Cioè riescono comunque sia a infettare le piante infestanti. E questo è molto grave. Noi vogliamo preservare il nostro territorio. Sappiamo che il nostro territorio è caratteristico per quello che è. I nostri agricoltori ci abitano in questo territorio. Vivono in questo territorio. E sanno quanta fatica fa per coltivare su questo territorio. La zona di Merceve è una zona collinare, montuosa. Sanno che un ettoro di cereale, un ettoro di lenticchia, o un ettoro di qualsiasi altro prodotto. Ci vuole molto di più per coltivarlo. È ancora più dura per queste zone coltivarlo. Non è possibile che il nostro prodotto sia... Se nella nostra Italia si potesse esaminare un UGM significa che il nostro prodotto qua è uguale al prodotto del nord, è uguale al prodotto del sud, ma è uguale in tutto il mondo. E se la lenticchia o qualsiasi altro prodotto che si viene qua, che potrebbe essere un cereale, lo si produce in un'altra parte, in grande scala, in grande quantità, è inutile che i nostri agricoltori rimangano sul nostro territorio. Quindi c'è uno spopolamento dalla nostra parte più interna verso un abbandono dell'agricoltura, verso un abbandono del territorio. Sappiamo che noi viviamo con le temperature, con la meteorologia. Se il nostro agricoltore non sta su quel territorio, rischiamo che il nostro territorio venga distrutto. E questo Coltiretti non lo chiede. Noi come organizzazione non lo chiediamo. E siamo a favore della non semina degli UGM. Il nostro prodotto è caratteristico per quello che è. Se la regione Marche è una delle prime regioni a livello di qualità del cereale, del grano d'urro, c'è un motivo. C'è un motivo perché la nostra regione è la prima a livello nazionale di qualità. Ma questo non è solo il merito del cereale, ma questo lo è per l'olio, lo è per il vino, lo è per la carne, lo è per l'agricoltura biologica. L'agricoltura biologica aumenta anno per anno. Quindi è tutto e Bruno. L'agricoltura biologica è un aumento. Il consumatore lo richiede. Più dell'80% del consumatore chiede un prodotto che non sia derivante da prodotti UGM. L'agricoltore chiede che non venga seminato prodotti UGM. Allora io dico, ma allora perché l'Italia, questo maledetto decreto di salvavardia, non lo fa? Perché non lo fa? E perché l'Europa non affianca l'Italia? Se l'Italia decide di non seminare questo maledetto UGM, perché l'Europa deve sanzionarla? Perché l'Europa non gli può andare bene questa cosa? L'Europa è grande per il suo contesto, però è giusto che l'Italia, le regioni, gli enti locali decidano di fare quello che ritengono giusto per il proprio territorio. E non dobbiamo essere sottostanti all'Europa, perché poi l'Europa deve essere un supervisore. Dobbiamo fare come ha fatto la Francia, come ha fatto la Germania, come ha fatto la Grecia, come ha fatto la Svizzera. Hanno fatto un decreto di salvaguardia contro i prodotti tipici del loro territorio, ma poi noi non abbiamo meno di loro, noi abbiamo molto più di loro, noi abbiamo un bill molto più alto del loro. Quindi l'Europa non può contrastare le nostre idee. L'UGM com'è? Che cos'è? L'ho spiegato prima Bruno. L'UGM è un'emologazione molto uguale per tutti. L'UGM chiede poche aziende di grande dimensione. La struttura della nostra Italia non è corretta. La nostra media azienda è un'azienda a media piccola, intorno ai 10 ettari di terreno, la media aziendale. Quindi non possiamo competere con altre nazioni. Ma questo neanche lo vogliamo. Questo neanche lo vogliamo. È abbattimento dei costi in mano d'opera. Quindi significa portare via mano d'opera dai campi. Significa che questa azienda è meno mano d'opera, più lavori macchinari, più meccanizzazione. Quindi abbattimento della mano d'opera. Con questa crisi che poi viviamo a livello nazionale, penso portare via persone dall'attività agricola significa portare ancora integrato la nazione come l'Italia. Passamento dei prezzi. Non è vero che l'omologazione, l'OGM porta all'alzamento dei prezzi. Lo vediamo nelle varie stati di sviluppo. Non è vero. Aumenta la superficie, ma aumenta la povertà. Aumenta la povertà perché il prodotto ha un prezzo più basso e comunque sia porta alla fame. Non è vero che aiuta nel mondo intero. L'inquinamento genetico. Non la lascio per ultimo, ma è quella più importante. È il danno per la nostra salute. È il danno per noi, è il danno per le nostre famiglie, è il danno per il nostro futuro. Quindi con diretti... Ma con diretti è l'agricoltore che lo chiede. L'agricoltore che chiede? Chiede che venga attivata immediatamente questa clausola di salvaguardia senza... Come ho detto prima, come ha fatto la Germania, la Francia e la Grecia. e che l'Europa non contrasti le nostre idee e la nostra decisione. Perché tale deve rimanere. Perché se facciamo così, se l'Europa governa sopra di noi, è inutile che l'agricoltore continui a lavorare. Tanto sa che da un'altra parte del mondo... Ok, ci sono. Da un'altra parte del mondo si fa un prodotto nostro, da un'altra parte, di quantità superiore che va nel mercato a un basso costo. Questo ne deduce i renditi dell'agricoltore. Poi chiedo alla Regione Marche di continuare il loro progetto sia del biologico, sia nella salvaguardia delle non semine degli UGM come hanno fatto. E chiedo magari agli onorevoli che presenti e comunque sia allo Stato italiano che a volte la salubrità del prodotto, la qualità del prodotto vada oltre all'economia. Grazie. Grazie.